allora chiaramente è uno scontro diretto di una rilevanza e di un'importanza pesante nel senso che gli scontri diretti come voi ben sapete valgono il doppio dei punti chiaro che mancano poi ancora 7 gare quindi no scusate sei gare dopo questa gara il margine si sta ristringendo nell'errore quindi pensando di partita in partita questa partita che hanno preso specifico importante allora sette risultati utili consecutivi poi improvviso un punto in quattro partite e se mi posso permettere non sembra manco una tua squadra nel senso a livello di tenuta difensiva col presi in maniera molto molto banale dal mio punto di vista che è successo è spiegabile solo con indubbiamente i tantissimi infortuni e tantissime senza che mi hanno falcidiato pure c'è dal no non è non è sicuramente non cerchiamo alibi con la reggiana nelle palle inattive siamo siamo stati poco attenti e anche con l'alessandria in una situazione stiamo soffrendo quel discorso di attenzione inoltre a siena al di là che la prestazione sotto certi aspetti è migliorata rispetto a quando facevamo punteggio pieno quando avevamo vinto con un tipo con l'olbia tipo con la torres è migliorata sotto certi aspetti è tornata un indietro nel nell'assetto difensivo ma l'assetto difensivo tante volte è frutto anche di come lavorano gli attaccanti centrocampisti abbiamo smesso un pochettino di correre indietro di sacrificarci e questo lo stiamo pagando in maniera pesante soprattutto perché puoi vincere perdere con tutti però se in alcune circostanze ci possono essere delle attenuanti come la reggiana col siena no col siena puoi vincere perdere ma l'onore delle armi non lo devi mai perdere invece noi su certi aspetti quando abbiamo subito a ogni situazione alla fine hanno fatto quattro situazioni da loro abbiamo preso quattro cose questo non va bene come stanno i ragazzi perché tutto ne vissute tante immagino in carriera sia da giocatore che da allenatori di partite del genere la tua sensazione come la vedi la squadra ma è normale che questi risultati pesano sul sul morale però di contro mi aspetto che giocatori con determinate esperienze che hanno vissuto già determinate partite in grande quantità tirano fuori quello quello che abbiano e riescono a dare una mano anche i ragazzi più giovani che magari sono alle prime esperienze sicuramente la loro le loro prestazioni possono trascinare anche gli altri questo lo possiamo chiedere chiaramente a chi ha più partite anche magari a livelli più alti come sta di paola e poi i rientri di felato che val di fiori importante sicuramente importanti di paola ha fatto due allenamenti consecutivi sta bene quindi lo convochiamo cucciarelli rientrato da questa forte influenza anche lui si è allenato per due giorni ed è disponibile di fiori ha scontato la squadra quindi sono al momento salvo qualche problema nella notte sono tutti convocabili gli ultimi risultati ti faranno cambiare qualcosina oppure no andiamo avanti così tre cinque due più o meno quei principi cercando di togliere gli errori che abbiamo fatto ultimamente ma io non credo che sia si vincano e si perdono con i moduli le partite abbiamo perso in un modo le perdiamo in un altro le vinci in un altro quindi voglio dire non è non più che altro le caratteristiche dei giocatori dobbiamo cercare di dare tutti un po di più perché questo momento di difficoltà però ancora nulla è compromesso la salvezza è a un punto quindi dobbiamo andare avanti a lavorare testa alta e quando uno ce la mette tutta non si deve mai rimproverare niente che montevarchi si aspetta domani che farà la sua gara cercando di come tutte le avversarie di vincere la partita quindi sarà una gara di questa categoria una gara sporca difficile perché loro sono bravi a lavorare sulle seconde palle quindi ci aspettiamo una prestazione difficile da ambo le parti ogni partita deve avere motivazione deve avere la voglia di vincere di essere più bravo dell'avversario al di là di chi hai di fronte penso che le partite noi cerchiamo di preparare in quel modo chiaramente di fronte l'avversario puoi vincere perdere pareggiare una partita prepari in un modo come in un altro sotto l'aspetto motivazionale più le partite si avvicinano alla fine all'obiettivo e più le motivazioni comunque le devi avere dentro non è che le devi creare se non hai motivazioni sei morto sia come giocatore che come allenatore come direttore con l'aspetto del pubblico forse è in questo momento è la parte migliore nel senso che ci sta dando una mano ci seguono con molta passione poi sappiamo benissimo che siamo legati all'apprezzamento del pubblico dei risultati quindi noi ce la mettiamo tutta